Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con la... Grazie a tutti. un po'... a tutti. e... Abbiamo beccato pure il girone peggiorato il culo a noi. Eh vincete! Io ho scritto ma cazzo ancora questo suolo becchiamo? Ma è possibile che becchiamo ancora questo suolo? Ragazzi mio caro! Ma sei tutta viola! Ma stai a casa cazzo! E' per quello che è viola sta cosa prendere il suolo! Ehi! Cacola di merda! Sonia, Sonia vieni qua un attimo! Ho già già i polpacci massacrati! Non ti prendo niente! No dai prendi il numero di caramelle del lupo Alberto! Dovresti invece impuntare perché sei la maggiore! Chi è tua sorella? Ma io mi andavo a far culo subito! Che cazzo dici? Comunque io non mi sono fatta niente! Mi sono fatta niente! Eh oh! Adesso non andavo via! Alla falla era anche no! Sto mi giocando più gol di due! Ma facciamo qua! Quella è tipo a gol e due! Ma dai! Alla stacchia! Allora poi vengo a casa con voi! O dovete uscire? Luca va direttamente al lavoro! Nooo! Zoccola! Ti ho beccato! Eh mi sembrava strano! Guarda la bastarda! Beh anch'io due ce l'ho presa! La prima! Hai visto per la prima volta che sei riuscita a scivolare con tutta me stessa! Con tutta proprio! Con tutta la faccia! Cio è sempre sdegnato che non riuscissi a scivolare! Guarda! Vai Nico! Ho troppo finito! Ho troppo finito! Ho trovato qua! Ho troppo finito! Hocitato un buco! Deolo Pritato одним! i due chiamavano l'altro times il gol non c'era più quando mancano 5 però a prescindere dai gol non stiamo giocando malissimo dai le palle le facendo girare si stiamo facendo girare però in due azioni vi potevate fare 4 a 3 ma anche primo è che l'uomo dietro quando è il problema è stato all'inizio come due mbroni Mirko e Luca tenevano lo stesso dove si spostava quell'altro tenevano l'altro assieme e vabbè perchè non c'entravamo uno in più perchè giustamente ci fai senza l'uomo però ero due stavano anche lo stesso ruolo amo al prossimo al prossimo time out Rosco alla prossima nostra time out ci siamo fermati a 10 bello no come le buche no qui è il ciavolo io però guarda sembra Aldo Baglio alla pala dai cazzo 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 quando ci vedi cazzo 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 e questa era un'altra回 Vabbè ormai finisce la partita, mancano quattro minuti per si vede il time out Time out? Time out, mancano quattro, Mirko Ma non ti cada lupo Grazie Campo Quattro minuti ormai Poi si lamentano perchè non abbiamo più tempo Menzi, il Menzi combina guai Ah, 24 ore 3, 4 ore Ho calcolato almeno almeno 5 Un minuto Sì, va bene Il mio si è fermato Mi sei fermato due minuti, non so perchè Fini? 5 a 1 Bisogna che lo scrivi, fa un po' un go Quando sei uscita cosa ti ho detto? 4 12 E dopo ne ha fatto uno, no? E poi glielo chiediamo a oroscopo Sì, non ci sei tu Tieni là Stai lì, stai lì, le braccia Oh, ciao Eh, glielo hai fatto il cazzamento dell'80 No, mancano anche l'80 Vai che c'è l'altro Nooo, zio, porca Nooo, zio, porca Adesso la menta Ah, c'è il culo Scusate, non capivo Pensavo che era quello di scarti Di scarti Quando fischia Calcolo Stammi lontano tu Per tirare le zanzare Che sei tutto sudato l'ercio Guarda, guarda Guarda Io ho messo sull'80 Dai Luca che sono solo 4 Dai! Ne mancano solo 3 4 a 1 Eh, ma non si vede Oh Dio Non si vede, mangi ma non metti sull'80 Aspetta che ti devo un'80 Dai raga Pedro Spray Almeno sui cosciotti di maiale qua Finiamolo Ma forse Ti stiamo girando Oh no Non mi stai arrivando Ti stai stare, ma No, non mi stai Io non mi stai Si mi stai A me ti stai Ma non mi stai Ti stai bene Lu Qualcuno ha qualcosa contro le zanzare per caso? Io ho la sardiera Le sigarette avete visto? Eh adesso mi stai mi stai No, ma tanto mi pungono lo stesso dobbiamo provare poca roba 5 euro a scruzzate 5 euro a scruzzate 5 euro a scruzzate 5 euro a scruzzate tanto pulgono lo stesso ho pizzato 8 volte mi ero dimenticato vecchio hai tagliato la pelle? si, ho vissuto tipo il nervo su ma smettila chiudi allunga piede ahahah 2 e 3 occhio lasciamo solo diego eh a largo uno che torna uno che torna che ha? che ha? torna uno su ricky 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 una pallonata di gioco bravo menfi 6 euro ecco oh fatti cazz tu fuori luca fuori Bella Fede! Guarda, guarda, guarda Oh, che sale tuo, il 74 Un zio un po' Sì, ma quello di Ocani c'è un cazzo di più Guarda, Simbraldo quando esce fuori dalla sabbia Vai Luca, bravo Ehi, ci siamo ma, rischia però Rosco Parti eh Ma hai detto che non hanno mai lavorato Vai Charo, vai tranquilla, tranquilla I gialli Guarda largo Guarda largo Guarda Guarda Oh, è da solo però eh Vai Charo Brava Fatti vedere, larga Colpi di suono Va bene Diego Vino 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 Guarda Vino 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 Sì, sì, sì. Lasciarono, ma vuole far dentro? Ok. Tira, tira! Uuuuh, scusciatica! Bra. Eh, cazzo, non mi vedo. Eh, sì, mi sta beccando anche a me adesso, cazzo. Porca troia, devo stare attenta, le zanziara la tira da qua. Grande, Fuggi! Dai, 5 a 2. Davide, che fa? Ho uno che fa entrare Davide adesso, eh. Luca! Luca! C'entra 5 minuti Davide! Oh, molti coglioni, eh! Ma sì! Eh, Cristiano Ronaldo! Puoi vedere quanti imponenti ne prendiamo adesso? Oh, fuori! Già! E' uno! No, fuori, oh! Vai Davide, fai solo un pericoglione! Non puoi dire, non si può giocare così. Abbiamo mai giocato così dio cane, eh! Così bene o così male? Così male? Così male! Dai, dai, dai! Eh, si fa vedere, non ti preoccupare! Paolo, non ti preoccupare! Ah, Schatica! Bravo! Schatica! Si fa i gol! È nostra! È nostra! È nostra! È nostra! È nostra! È Paolo! È in campo, è. Ci sta bene il massaggio! Ci sta bene, il merda! È piatto nostra! Ma perché si è accorto che era gialla, allora doveva dargli... Si, si! Oh, non vedo il cazzo! Perché i due fuori? Perché i due? Perché i due fuori? Un pochetto signoretti! Torna, torna, torna! La Caterina! Sei minuti! È partito! Spesalo! 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 Sbagliati! Spesalo! Spesalo! Ehi! Spesalo! 2-2! Di due! Ehi! Che cazzo di culo che ti ha raggiunto! Tu, Schatica! Eh, lo so però che cazzo dace uscire adesso? Pesalo! Sì, sì Rosco, sì, sì. Ma che mezza riga faccia partita. Stampelle. Non posso anche salti vicino? Io volevo giocare. Piuttosto perdevo. Tanto lo sai che se non faccio andare i peli faccio andare così. Mi sa che adesso faccio portare le mani. Poi alle 10 da lavorare. Sì, ma non fanno un cazzo se avventino. Solo che non avevo tempo di prenderle. Sì, Davide, bravo Davide, ancora, ancora. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Manino. Ma va bene, sono a palese. Questo è che è palese, però ogni volta che ho fatto con la seconda mano. non si può cambiare portiere, vedete? Sì, potendo sì. No, di portiere. Vai, no? Se si può. Entro io. Cambio. E' da ripetere, si è mosso il portiere. Eh, in effetti. In effetti. Figa, se lo sbagliavano... No, va bene, va. Non devi stare sulla linea. No, lui non diceva. No, poi ti faccio l'appunto. Sì. Nel senso che ti ha la foto e ti fa l'appunto, capito? Ti fa l'appunto, non ce l'ho l'appunto. Ancora. Guarda di una mano qualcuno! No. Occhio largo, ciao. Siamo tutti su, ragazzi. Sì. No. Barbato. Le mani, prendi. Nanna. 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 Grazie. Sammazza. Sì. Sì. Ma chi è, ragazzi? Sì, siamo a metà. Sì siamo a metà? Sì c'è meno un gatto. Non vuoi far due scelти? Vuoi cambiare? Ah, vuoi cambio? Sì, vieni a sicuro. Sì, vieni a sicuro. dai sciatica doppio passo segui l'uomo siamo a 10 volete chiedervi il time out chiedetelo se volete il caffè voi dovete la prendere io ho giocato un po' vai ancora ce l'hai di là segui l'uomo è la zona dietro da sola torniamo piegalo Davide Davide quando vuoi cambio basta che lo chiedi guardi stu pezzo di merda ah ne ho contati 4 ciao alla prossima che cazzo 2 almeno 4 non ne avete fatti brava Mirko brava ciao dai 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 siete in tre grande barbapapà bravo Fede guarda che cazzo di calciatore se hai porco di parlo del pallone piuttosto mi spacco il naso e si vede in mezzo a sto porta porco dio sotto a destra ma è la porta che è sbagliata e ancora cos'è sta modalità città cos'è sta modalità città amore siamo a 14 se volete il time chiamatevelo me lo devo dire io il cane è proprio marito e moglie niente non mi cagli il time me lo vogliono cazzi loro fai il doppio passo vai di Rabona dai dai quando non vuole entrare non vuole entrare grazie grazie Sempre l'uomo da solo davanti alla porta. Ho fatto una cazzata e poi un fallo. Quanto manca? Quattro. Ma perché vuoi far così come sei forte? Ma che cazzo c'era in mezzo? Lui è il cugino. Siamo stai cazzate. Dai Luca, lascia stare e gioca cazzo. Poi si lamenta il fallo. E facciamo tutta la cosa con calma. E' un po' di quotidianata. E' un po' di quotidianata. Ego, stai rompendo la porta? Era più difficile sbagliarlo che farlo. Che spica. Che spica. Quando non vuole entrare non entra. Non c'è cazzo da fare. Quando non vuole entrare non entra. Lo diciamo. Lo sono. 21.45 mancano due minuti. 21.45 mancano due minuti. In un'altra serata metti. 8 gol e non l'era. Giallo. Trovato anche di mano. Dopo giallo fuori da cazzo. La cartellina. Anche dopo questa. No. No. Non commentare. Luca. Che palle. Che palle. Muore. Dai Luca. ma che cazzo ne so perché Luca ha tirato e Paolo sa incazzare dai tanto è finita basta Luca dai madonna Luca ha tirato la palla di là che non so se l'ha già uccita o qualcosa Luca l'ha tirato e Paolo sa incazzare dai cazzottini che fai male a qualcuno e poi è iniziato così ma non ha stronzato santo Dio ma comunque non c'è volta che Paolo finisce la lega